come si chiama come si chiama samuele gatti perché io mi chiamo su sto giocchetto mi chiamo il più bello non leggi qua e quindi mi fa prima avete chiesto a il genaro perché si chiama il genaro e non alessandro allora perché ti chiami il più bello se non sei il più bello tipo monte nel piano per culo ha fatto wow lo si è fomentato lo stava a pia per culo monte lo stava a pia per culo e quindi io ho fatto io ho fatto regà chi è chi l'ha detta sta cosa dopo mezz'ora di silenzio quando gli faccio regà chi l'ha detta chi l'ha detta hanno fatto lui io guardo gli faccio chi cazzo sei perché davvero non sapevo chi fosse cioè alcuni li conosco in quella casa sono mezzi simpatici da ubriachi però una volta lui davvero non lo conoscevo ma perché tutti me screzzano la gamma c'è ah bro la tua mi chiesa